Vai No ma qui ce n'è meno di polvere Perché questa qua Sono delle nostre Quella impolta in polvere Era di mia mamma Questa qui era da mia nonna Che passo dal Gigi Per qualche motivo Esatto Ah figura Mano De la ufere sono delle polvere Ah ma quelle che ha fatto tuo padre Sì Ma quelle fede di camera sua Grazie a tutti. Grazie. 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 Questa è meno polverulente. La prima forza, la prima forza, la prima forza, ma poi piano piano, naturalità, pure nel passato. Potevi prendere la liana di tuo padre, sperando che ti roggesse. Potevi prendere la liana di tuo padre. 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 Sì, la faccia è una diversa, oppure è seconda del delitto, di come viene, oppure è uno che fa un mestiere a sapere di come viene, di come è, adatta alla tecnica diversa, sono tutte diverse. Sì, serve un'altra, serve un'altra, le cose che si curi di fissere, si perche la macchina. Servono, vedi per esempio adesso, facciamo quattro di qua, poi facciamo quattro di qua, gli altri non facevano, facevano tutto di qua e tutto. Questi qui servono a, diciamo, sostenere queste zone di disegno. Sostenere le 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 zone di disegno.